C'è una visione politica su questo UWA, certamente sì, è stato proposto sotto la commissione prefettizia facendo un ottimo lavoro di commissione su tutto l'Aremille e poi chiaramente ricordo a tutti gli investiti, a Conto, che ero con l'Italia, con la regione di Giunta e da lì chiaramente siamo sempre stati in contatto sia agli Stasi Unicipali che con quella Capitolina per seguire i lavori per arrivare a avere chiaramente un'idea di lungomare che possa essere fruibile in modo costante, nonostante di quel giorno l'anno, da parte dei cittadini e sicuramente è bello perché i lavorati sono stati fatti e sono molto importanti e interessanti, quindi se c'è una visione politica su questo che ho risposto sì, l'obiettivo chiaramente secondo me già siamo andati anche oltre rispetto al 50% di ciò che la regione Lazio reconeva e in alcuni ambiti ancora abbiamo raggiunto percentuali superiori, anche sottraendo il discorso di Sarkozyano comunque aumenta notevolmente gli spazi pubblici e spazi ricostruiti, quindi andremo ad abbattere ulteriormente tutte quelle situazioni che sono state esprite ampiamente durante questa connessione, quindi noi abbiamo un'idea sicuramente che questa è una fase importante che esporremo in questo consesso e quindi poi verranno chiaramente portate e libera di prima possibile. Abbiamo i tempi, i tempi sono quelli che sono stati descritti e io ritengo che per esempio non sarà soggettato a Ravas, se lo ritarrà a Porturo la regione Lazio come ha fatto per esempio con dei più vicini o con altre località, come Sia credo e questo che cosa significa che se entriamo in quell'altro processo che sarà necessità di ulteriori 180 giorni di secondo euro e quindi poi ognuno farà le sue considerazioni. È evidente che i passaggi di conferenza di servizi, quindi sarà di mani a fare un'ottima cosa, è stato il proprietario dell'Arenile che ci chiamano praticamente una suddelica semplicemente a gestire con un regolamento i servizi su questo litorale. È evidente che riteniamo che alla fine tutto questo lavoro è stato fatto sia un ottimo lavoro. Poi chiaramente sui tempi ci impegniamo a seguire ogni passaggio e con estrema fiducia che possa essere stato quando viene.